Salve a tutti, siamo qui con Rioters, non so il suo nome, però ha la barba rossa, quindi sarà un coglione, e quindi intervistiamolo subito. Allora, innanzitutto, cosa ne pensi dell'intervista che ha fatto Prick? Credi che abbia detto tutto? Ovvero, le fotomodelle sono economiche? È questo che... Beh, sinceramente sì, sono molto economiche, però, cioè, hanno la figa sfondata, quindi, essendo state con 20.000 uomini, cioè, alla fine una non la si è fatta più, quindi non riesco a pensare, a immaginare cosa possa essere una figa vergine, visto che ci sono solo fighe sfondate in giro. Ecco, questo è il mio disappunto in confronto alle donne. Parlando dei nabbi, quello che ha detto Prick sicuramente è giusto, perché noi le mele non ce le inculiamo da persa. Ma, inviate, inviate, potete inviare tutti i cazzo delle porte che vi pare, ma noi non ce le può fregare da meno. Va toccato tutti il cazzo, tutti. Beh, allora, dopo che hai detto sta gran cazzata, l'immortacci tua, perché pure io gioco a LOL, mi chiamo Monte Cristo, cosa è il termine di gran cazzo? Vabbè, e allora, cosa ne pensi? Cioè, siamo sicuri che i nabbi non usciranno mai da questo gioco di merda? O ci saranno sempre e continuamente? È mai possibile che uno, quando starta una partita, deve trovarsi questi ritardati in team? E allora, tu, cosa faresti se trovassi questi ritardati o nel cazzo singola di partita? Ok? Hai capito il concetto? Mi devi farlo del culo, eh? Testa di cazzo. Allora, mo' mi dici che cazzo pensi di fa? Ok? Sì, allora, praticamente, t'ho già detto prima, a me non me le può fregare da meno, non so se hai capito il concetto. Cioè, te puoi perdere tutte le rancate che te pare, ma a me non me le fregare un cazzo, perché io so di Odex, quindi a me mi mettono direttamente da me pare a me. Questo è il concetto, quello che tu non capisci. E quindi... Beh, possiamo smettere qui di intervistare Riot Roscio? Possiamo anche dargli la mano, la mia buzza di merda, la mia soppulita il culo prima con qua la mano. E che dire, ci vediamo alla prossima con un altro Rioters, mi raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi, mettete mi piace al video, mettete mi piace alla pagina Facebook.